In concorso domani anche il secondo film svizzero, Bancomat, di Billy Herman, il direttore Moritz de Adelan ci dice quali sono i motivi che lo hanno spinto a scegliere questa pellicola. Bancomat è un film che io trovo particolarmente riuscito. E' un tipo di produzione che si colloca in quello che si usa dire ora in Europa low budget, cioè naturalmente in confronto a certi film americani che hanno dei preventivi di 20-30 milioni di dollari è un piccolo film, però non si sente che è un piccolo film, si sente che è un film con un spirito giovane, ma lui è riuscito a far sì che secondo me tutto funzioni.